Bianca Guaccero e l'ex Nicola Ventola di nuovo insieme. Lei fa chiarezza. Bianca Guaccero fa chiarezza sul rapporto con il suo ex Nicola Ventola, con il quale si vociferava di un ritorno di fiamma. Il possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e l'ex Nicola Ventola è stato uno dei gossip più seguiti dell'estate. Un po' come se fossero i nostri Bennifer. Sono stati molti a sperare che ci fosse un fondo di verità in tutto questo e che Dopo ben dieci anni tra i due si fosse riacceso l'amore. Certo è che sia la Guaccero che l'ex calciatore ci hanno un po' marciato su. In queste settimane hanno riempito i social di video. Foto e commenti che non hanno fatto altro che alimentare il gossip sul loro possibile riavvicinamento. Tra l'altro divertendosi un mondo. I due sono stati al mare insieme. Hanno trascorso piacevoli serate in compagnia di amici in comune. E hanno anche condiviso delle stories su Instagram in cui si punzecchiavano proprio come farebbero dei neo fidanzatini. Ma quindi, ci siamo fidanzati di nuovo? Ha detto Ventola. E la conduttrice di detto fatto in tutta risposta. Così dicono. Che dobbiamo fare? Neanche a dirlo? Sono arrivate valanghe di commenti da parte di fan e curiosi. Sempre più convinti del ritorno di fiamma. Ma chi conosce bene Bianca Guaccero sa perfettamente che una delle sue principali doti è l'ironia. Accompagnata naturalmente dalla sua lampante bellezza. E sì. La conduttrice e l'ex calciatore hanno, giocato, sull'equivoco rimbalzato tra le pagine di gossip. Poi smentito una volta e per tutte. Bianca Guaccero ha confermato che tra lei e Nicola Ventola c'è un bel rapporto. Ma tutto si limita a una semplice amicizia. Ha dimostrazione che tra ex si può restare amici e volersi molto bene. Ha aggiunto Bianca su Instagram a chi sottolineava quanto fossero una bella coppia. Una mosca bianca? Possiamo dire a gran voce. Visto che nella maggior parte dei casi, non tutti. Tra gli ex non corre buon sangue ed è davvero raro che si resti in buoni rapporti. Bianca e Nicola sono stati insieme a lungo. Da giovanissimi. Lei stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo mentre lui stava emergendo come calciatore. Poi le loro strade si sono divise. Con tanto di matrimoni e figli annessi. Nessun ritorno di fiamma o flirt estivo. Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono semplicemente due ex diventati ottimi amici. Che adorano trascorrere del tempo insieme. Divertendosi anche a prenderci in giro. Che adorano trascorrere del tempo insieme.